Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento di rilancio del nostro Master Tecnico Max, manager per l'eccellenza, è arrivato la quarta edizione. Io vi chiedo scusa in anticipo per la mia voce ma questa è tutta quella che ho e deve durare fino alla fine, anche un po' per l'emozione diciamo. Siamo arrivati alla quarta edizione di questo progetto che è nato nel 2016. Oggi vedremo un'introduzione da parte della scuola di altra formazione SMI dell'Università di Brescia in cui il Master si colloca, nel cui piano formativo il Master si colloca e un intervento del direttore di ISFOR Cinzia Poglio e del nostro amministratore delegato CSMT che seguiranno l'intervento del professor Mario Mazzolini. Poi avremo l'intervento del nostro ospite, scusate, Mirko Soprani che è presidente di Life Skill Business e socio fondatore dell'Associazione Accademia della Gentilezza che ci parlerà appunto del tema portante su cui si fonda questo evento che è quello del benessere delle persone in azienda. Seguirà poi l'esperienza di due ex allievi della scorsa edizione di Metal Press Donati, il dottor Silini e il dottor Sarnico che hanno appunto svolto l'edizione scorsa e poi io mi sono tenuto la parte più tecnica, più rivolta alla proposta didattica e poi rimarrò a vostra disposizione per rispondere alle domande. Io direi partiamo subito Mario, prego, comincia pure tu. Grazie, grazie. Grazie Mario. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qua con noi. Allora io ho pochissimo tempo e vorrei dedicarlo soprattutto a sottolineare due aspetti. Il primo richiamo quello che è il ruolo della scuola di alta formazione dell'Università di Brescia che è proprio quello di riuscire a intervenire per lanciare progetti e sostenere progetti di innovazione e progetti che sappiano anche mettere un po' in discussione alcuni paradigmi, quale appunto è il Max e dall'altra parte che lo facciano cercando di coinvolgere sul territorio tutte le realtà, aziende, istituzioni, associazioni e via dicendo, che possono essere interessate a sviluppare modelli di formazione di questo genere. Questo è il primo aspetto perché lo sottolineo, perché credo che sia importante richiamare quella che è la volontà fondamentale del Max e che in parte vedremo anche con alcuni richiami di quest'oggi, che è quella di introdurre delle chiavi di innovazione nella formazione che abbiano da una parte una base solida. Noi siamo ovviamente anche abbastanza orgogliosi di poterci muovere sulle basi teoriche e esperienziali che consideriamo valide, ma dall'altra parte con la giusta capacità di mettere in discussione con alcuni paradigmi, in una visione che però è sistemica. Non spoilerizzo la visione dell'ingegnere Riccardo Pichino, però per noi è importante che la capacità di innovazione si sposi anche con la visione, diciamo, sistema o sferica, come direbbe tra poco Riccardo. Ecco, dall'altra parte un aspetto oltrettanto importante è che riteniamo che sia importante e fondamentale fare un percorso dove si alternino esperienze, visioni, ma anche, come dire, opportunità di testare direttamente sul territorio e in azienda le cose che vorremmo in qualche modo affrontare, cioè riuscire ad avere i piedi ben piantati nella realtà del nostro mondo imprenditoriale e aziendale. Anche questa è una sforza che portiamo avanti mettendo un po' in discussione alcune basi del modello pedagogico che per tanti anni è quasi una sorta di distacco tra le imprese e il mondo accademico. Ecco, noi proprio partendo dal presupposto, diciamo prima, pensiamo che sia importante ed è fondamentale che con noi, a fianco a noi ci sia il mondo confindustriale perché crediamo che sia utilissimo anche sblocarsi un po' le mani e mettersi un po' in discussione. Quindi il Max è anche un esempio virtuoso di umiltà, diciamo, pedagogica e credo che sia abbastanza evidente anche dall'evoluzione e qui vado a concludere del programma. Il programma evolve nel tempo anche attraverso le esperienze che nel tempo abbiamo accumulato e credo che questo sia un altro merito che vada riconosciuto innanzitutto da Andrea e poi a tutti i collaboratori che con lui tendono anche a non, come dire, fermarsi sugli allori perché il Max è andato sempre molto bene però malgrado ciò la capacità di mettere in discussione e di innovare. Ecco, credo che su questo noi possiamo immaginare un'altra versione che si sposa anche con alcun altro dei richiami fondamentali di questo progetto che è quello di essere comunque in grado anche di cogliere quelle che sono le evoluzioni del momento. Max parte in una fase storica ancora più complicata forse del passato, però così come nel passato si prepara anche a cogliere quelle che saranno le novità che via via dovremmo affrontare e che quindi diventeranno anche queste parti di un contenuto didattico. Ecco, con questo io vi taccio e vi ringrazio ancora per averci coinvolti e per essere con noi in questo rilancio di un progetto nel quale crediamo molto. Grazie ancora. Perfetto, grazie Mario. Molto rapido, coinciso e sintetico e chiaro. Prego Cinzia. Grazie a tutti per essere qui, a CSMT per averci coinvolto nel primo momento di progettazione di questo master e poi a seguire nelle edizioni successive anche a SMAI con cui collaboriamo a vario titolo, diciamo in vari modi per la formazione del territorio. Anch'io come Mario dirò poche parole anche per non sottrarre tempo. Sono direttrice di ISFOR. ISFOR è un ente di formazione continua che esiste da 33 anni, quindi dal 1989. Oggi dire 1900 vuol dire dire proprio un altro mondo, nel senso che da allora il mondo è cambiato molto, eppure sono 30 anni fa. Stavo proprio diciamo a breve inizio una lezione nel nostro, no dico nostro perché sia di ISFOR che di SMAI nel nostro master in management e innovazione delle imprese stavo riflettendo su come è cambiata la managerialità, come è cambiato il lavoro del manager in 30 anni ed è cambiato molto perché il mondo è cambiato molto e questo nostro mondo VUCA, no cosiddetto, ormai è un acronimo che credo sia entrato quasi sempre brutto, però è entrato direi nel linguaggio dei manager e del mondo delle aziende. Questo mondo VUCA richiede veramente una serie di competenze che sono molto diverse rispetto a quelle che al manager erano richieste 30 anni fa. 30 anni fa il lavoro manageriale era un lavoro impostato sulla pianificazione e controllo, sintetizzo molto. Credo che Riccardo che 30 anni fa, a differenza di me che mi approcciavo al mondo universitario, 30 anni fa stavo entrando all'università, Riccardo era invece già un super manager manager, quindi potrà come dire disconfermare o confermare con quell'approccio sempre sperimentale e dialettico che caratterizza come dire la nostra collaborazione, quando dico nostra dico di tutti i soggetti proprio che oggi sono a questo tavolo, ma se dovessi sintetizzare 30 anni fa il lavoro del manager era un lavoro di pianificazione e controllo, il manager in qualche modo mai del tutto, però poteva stare un po' più chiuso nel suo ufficio a fare il suo lavoro che era un lavoro diciamo più verticale, più dominio specifico. Poi è chiaro che se uno era direttore generale o CEO comunque aveva un'ampiezza di funzioni e non solo il proprio dominio, quindi questo non è cambiato, però i manager dalla prima linea in giù, quindi di prima e seconda linea, potevano quantomeno dedicarsi al loro dominio di competenze. Oggi io non credo che sia così, noi non crediamo che sia così, non a caso Riccardo stesso, anche se dopo potrà disconfermare quello che sto dicendo, però ho cominciato a parlare di approccio sferico alcuni anni fa, io credo che questa visione sia sempre più attuale, nel senso che è un approccio sferico ed è un manager che deve avere tante competenze, certe volte anche troppe, nel senso che dobbiamo evitare che questa forte attesa e questa forte richiesta di flessibilità nei confronti del manager diventi fonte anche di ansia. Io quando le volte in cui vado in aula dico, signori sono tante competenze, il mondo è molto variabile, incerto, complesso e ambiguo, però attenzione, rimaniamo centrati sul nostro sé, nel senso che calma e gescio, e mi rifaccio diciamo a quella bellissima testo scritto che si chiama Desiderata, che credo sia del 1560 o giù di lì, che dice procedi con calma tra il frastone e la fretta, cioè non perdiamo quella centratura che ha a che fare anche con i nostri limiti dell'umano, perché il lavoro manageriale, il mondo aziendale, gli scenari sono sempre più complessi e sempre più rapidi, ma poi in definitiva l'essere umano è un po' sempre lo stesso, nel senso che cambia con tempi che sono più lunghi dei 30 anni e quindi diciamo procede, per fare un buon lavoro deve procedere con calma tra il frastone e la fretta e ricordarsi quanta pace può esservi nel silenzio, nel senso che quindi quella dimensione etica e di gentilezza ha a che fare con il rapporto con gli altri, ma ha a che fare anche con il rapporto con se stessi. Spero di non essere stata troppo filosofica, però ci tenevo diciamo a trasmettervi di questo messaggio che vuol dire approccio sferico, ma anche proprio forte radicamento in sé e nelle relazioni, nell'umano. Credo che questa sia la base poi per fare un buon lavoro. Il lavoro, ripeto, del manager è molto cambiato, siamo molto meno in ufficio e più in mille relazioni, talvolta sembra frammentato, ma questo lo diceva già Mintzberg, quindi come dire la frammentazione forse in parte ha sempre un po' caratterizzato il lavoro manageriale, oggi ancora di più certe volte cerchiamo di concentrarci e di tenere la bussola, quella bussola di cui poi Riccardo credo che ci parlerà tante volte, però tenere la bussola sempre tra le mani, anche quando la complessità e l'incertezza aumenta. Quindi grazie, grazie per averci coinvolto e apprezziamo sempre di più questo progetto che, come diceva prima Mario, il caro professor Mazzolelli, si sta evolvendo anche nel tempo, quindi segue poi quella che è anche un'evoluzione che ha a che fare con i tanti stimoli che sempre derivano da ogni edizione di ciascun percorso formativo. Quindi chi fa, chi si occupa di formazione è proprio chiamato a raccogliere indicazioni, commenti, suggerimenti, a potenziare, a togliere, a sostituire per, diciamo, aggiornare costantemente e quando anche non addirittura innovare la proposta formativa. Quindi grazie, spero di non aver preso troppo tempo. Assolutamente no. Prego Riccardo, grazie a te Cinzia. Buon pomeriggio a tutti. È bello sentire le parole di Mario Mazzolelli prima e di Cinzia Poglio dopo, che in effetti confortano, confortano nel senso di dire che considerare che abbiamo Università, ISFOR e CSMT insieme affrontano un argomento, un argomento importante come quello della formazione e anche in questa costituzione così importante, anche questo è un approccio sferico. E come mi fa piacere anche riprendere lo spunto che mi ha dato Cinzia prima parlando del VUCA, che ormai è diventato sì nel lessico quotidiano quasi dei manager e soprattutto tra l'altro curioso che era stato inventato in ambito militare negli anni cinquanta quando iniziava la guerra fredda al Pentagono e non si immaginavano quando l'hanno concepito quanto sarebbe stato vero oggi, oggi così volatile, incerto, complesso e ambiguo. A me però piace pensare che questo lo chiamo il VUCA nero. A me piace pensare di più al VUCA bianco. Il VUCA bianco ha per V vision, ha per U understanding, la comprensione, ha per C clarity, la chiarezza, la trasparenza, vedere. E ha per A agility, la capacità cioè di essere flessibile. Beh, il corso di fatto si prefigge questo obiettivo, quindi ringrazio Cinzia che mi ha dato questo spunto. Cioè è un VUCA bianco, è la contromossa al VUCA nero. Dobbiamo avere visione, dobbiamo comprendere, essere consapevoli di che cosa sta accadendo e lo dobbiamo fare in modo chiaro, in modo da rendere trasparente, connesso, come mai prima, il nostro mondo, il nostro mondo o il nostro modo di operare e lo dobbiamo fare in modo flessibile, agile. Grazie a Dio la tecnologia ci aiuta, grazie a Dio il 4.0 ci consente di poter avere un monitoraggio in tempo reale della situazione esterna o interna all'azienda. Ecco l'importante è però essere consapevoli di tutto questo e come diceva anche Cinzia prima il ruolo, il ruolo è cambiato, è cambiato in maniera, il ruolo del manager è cambiato in maniera evidente quando ho preparato se volete soltanto due slide che non so se si vedono. Si vede? Si vedono, sì. Allora, velocemente, come diceva Cinzia, dagli anni 70, quando il ruolo del manager, del plan manager, negli anni 70, io sono di quell'epoca lì, io quindi ho iniziato a occuparmi in azienda nel 77, quindi 76, la laurea, nel 77 ero in azienda, era la cosa principale raccontare i pezzi, poi arrivata la qualità totale, quindi pezzi buoni, poi la salute, la sicurezza, l'ISO 14.000, 18.000, quindi salute e sicurezza, lui diceva ma come faccio a fare tutto io, non lo deve fare l'RSPP, no caro, tu sei responsabile anche della gestione dei tuoi operai e del tuo personale, quindi l'ambiente, quindi lo stress dal lavoro correlato, no, che mi sentivo dire anche in Beretta, ma che sono uno psicologo io nel 2010, me lo sentivo dire, e oggi in maniera chiara la sostenibilità così ampia, così complessa, no, sostenibilità in tutte le sue accezioni, quindi che comprende, lo vedremo anche meglio fa un paio di minuti, di diversi stakeholder e quindi è decisamente complesso e quindi io dico ma questo è un lavoro da superman, no, tanta è la complessità e la sfera d'azione che ricopre e allora che cosa si richiede? Si richiede un approccio nuovo, un approccio che riesca a coniugare la conoscenza tecnica, il sapere, il sapere di lean production, il sapere di robust design, il sapere del 6 sigma, tutte quelle, tutti quei tools, tutte quelle technicalities che negli anni, no, si sono, sono state acquisite, ma devono essere a questo punto rapidamente condensate e devono essere dominate, che si coniugano, il simbolo del per, però sta a rappresentare che non è una somma, proprio a livello logico una moltiplicazione, con una cultura etica, una sensibilità etica, quindi che vuol dire che chiaramente come si interpreta il nostro modo di concepire la vita lavorativa e come questa si sposa e si coniuga con l'ambiente che l'accoglie e che quindi la sostiene. Quindi tutto questo è quello che occorre per creare le condizioni che si inneschi questo processo, un processo per certi versi, un processo chimico, tale che riesca a far scaturire una capacità di innovazione, ma innovazione sostenibile. Facile a dirsi? Forse, sicuramente meno facile ad applicarlo perché sono tante, come dicevamo, le variabili. E che cosa ha bisogno quindi? Che cosa si richiede? Si richiede quindi di manager che sappiano, abbiano una visione sistemica o sistemistica in senso lato, quindi che abbiano quindi questo approccio etico e che sappiano essere al contempo innovativi. Quindi tecnologico, quindi che ha un pensiero lì, possiede tutti i tool, ha una conoscenza globale e trasversale, sa armonizzare vantaggio locale a favore di quello globale, ma è anche etico conoscere regole per la sostenibilità sociale. Ecco che quindi tra l'altro in questo corso ci siamo rivolti anche a un personaggio autorevole che è Casuo Inumaro, è etica intenta e che ci porta e ci conduce per mano con competenza e col giusto fair play in un mondo così difficile come quello della sostenibilità. E quindi essere innovativo, che ha un pensiero laterale, è un approccio disruptive, è lui stesso motore di innovazione, sa concepire progetti con approccio quindi sferico. Quindi essere in grado, infatti si dice mi interessa, il bravo coach riesce a tirare fuori dai propri collaboratori proprio quello che si dice utilizzando l'intelligenza emozionale, saper tirare fuori quindi le capacità e l'intelligenza discrezionale. Ed è quello che ci consente quindi di poter essere, diciamo disruptive, poter dare un breakthrough al nostro modo di operare. Ecco allora un esempio concreto, quello che anticipava prima Cinzia, di come può essere concepito questo approccio sferico. Questo è un tool molto semplice che abbiamo pensato, proprio che di cui potrebbe, si deve, diciamo che deve utilizzare il manager per potersi guidare nelle sue attività anche quotidiane. Ad esempio se deve comprare ad esempio un tornio, non dico un pannelli solari o qualcosa di più immediatamente collegabile alla sostenibilità, ma qualunque attività lui faccia, ad oggi per calcolare la bontà di una iniziativa, qual è lo strumento che utilizza? Semplicemente il payback ROI e va a vedere qual è il guadagno che ne può avere dall'acquisizione di questo nuovo macchinario. Quando in realtà gli stakeholder della sostenibilità sono ben di più dei semplici azionisti e sono i dipendenti, dipendenti nel senso di welfare, i dipendenti nel senso di sicurezza, i clienti, ma anche fornitori che hanno la stessa dignità dei clienti perché altrimenti la filiera cade, altrimenti non si può garantire prenderci responsabilità nei confronti del cliente se non abbiamo le spalle coperte. Quindi il territorio nelle sue due accezioni, quella ambientale e come tale quindi devo considerare l'impatto che le mie decisioni e le mie scelte hanno sull'ambiente come in termini di carbon footprint, misurando l'LCA, ma anche quindi a livello sociale, quindi andare a vedere se le mie scelte hanno un impatto positivo sul sociale, nel senso che ad esempio aumentano l'occupazione o comunque stimolano la ricerca o tesi, brevetti, tutto che tipo di ricaduta positiva porto sul territorio. È chiaro che allora il manager utilizzando questa bussola che durante il corso l'ha già insegnata, applicata e sperimentata, sarà in grado di potersi misurare quanto lui personalmente e l'azienda è globalmente predisposta per avere un approccio sostenibile ed etico, in modo tale quindi che dia un contributo concreto a, senza falsa retorica direi, a migliorare l'ambiente, migliorare l'azienda in cui opera, quindi migliorare il mondo. E non è retorica, è quello che ognuno di noi, nella propria sfera di azione, dobbiamo fare. E quindi questo è un esempio concreto fra i tanti che verranno utilizzati e spiegati nelle 330-340 ore di corso del master e questo però mi faceva piacere farlo vedere anche perché trasmette anche in modo tangibile cosa si intenda anche in senso di sferico, perché è globale, è inclusivo, coinvolge tutti gli stakeholder della sostenibilità. Ed ecco quindi che in chiusura mi fa piacere dirvi questo, cioè che la conoscenza tecnica e la cultura etica, così come la scienza e la filosofia o anche la tecnologia e l'arte, devono essere amalgamati, sincronizzati, armonizzati per poter arrivare a concepire un'innovazione sostenibile. Perché? Perché io credo che questo approccio sistemico e globale sia stato proprio l'innesco che è stato utilizzato ben 500 anni fa nelle botteghe del Rinascimento, dove il Verrocchio era al contempo pittore, scultore, ingegnere, capocantiere, start-upper, coach, faceva tutto. Perché? Perché non c'era dicotomia fra arte, filosofia e scienza. L'arte era la scienza di allora, che poi negli anni, nei secoli si sono andati divaricando. Ora dobbiamo recuperare questa dicotomia a vantaggio nostro, proprio perché è attraverso una sana simbiosi fra questi due mondi apparentemente così lontani che può nascere ancora di più, diciamo, l'opportunità di un nuovo rinascimento. E dall'altro è un concetto che mi fa piacere infatti dire che così come fu l'arte, lo strumento attraverso il quale nel 500, nelle botteghe del 500 si innescò il rinascimento, è oggi l'innovazione sostenibile, questo strumento attraverso il quale può innescarsi un nuovo rinascimento, in modo tale quindi che possiamo, che siamo noi caporeparto, direttore di stabilimento, amministratore delegati, presidenti, qualunque sia il nostro ruolo e qualunque sia la sfera del nostro operare, noi dobbiamo essere, come dicevo all'inizio, consapevoli, avere quindi consapevoli del nostro dovere, della nostra responsabilità e della nostra missione nel fare il nostro lavoro. E come tale quindi con questo approccio sferico, e chiudo, quindi essere la risposta a quel buca nero attraverso il buca bianco che ricordo era visione, understanding, clarity e agilità. Grazie, grazie e buon pomeriggio a tutti voi. Perfetto, grazie mille a te Riccardo. Adesso non vedo in webcam, ma forse è colpa mia, il nostro relatore. Ci sono, ci sono. Mirko Soprani, ecco così poi ci diamo del tuo. Assolutamente. Eccoci così. Per introdurre il tuo tema brevemente mi fa piacere fare anche da parte mia questo commento, che tra l'altro vi chiedo scusa, nella fretta ho dimenticato di presentarmi. Io sono Andrea Pasotti, in GSMT sono il responsabile della formazione, ma non solo mi occupo, e mi occupo prevalentemente, come diciamo fetta per ponderante del mio tempo, di progetti di innovazione in azienda. E da sempre, fin ormai a 18 anni che faccio questo lavoro, prima anche da dentro l'Università di Brescia, mi sono chiesto, diciamo da ingegnere, ho innamorato della tecnica, per cui le cose vanno fatte bene, le devi sapere, il progetto fatto perfetto. Io non sono un ingegnere meccanico, sono un po' più blando da questo punto di vista, ma pur prima di gestionare c'è la parola ingegnere, molto molto imponenato della tecnica. Poi ho iniziato davvero a farlo con le persone e ultimamente mi sono sempre chiesto qual è la ricetta giusta per portare la squadra da esterno, soprattutto, figuratevi, è più difficile da interno, magari hai una carica, un'autorità, sei il capo di qualcuno e in un modo o nell'altro la gente ti ascolta. Quindi mi sono sempre chiesto qual è la ricetta giusta per farsi ascoltare dalle persone. Alcuni sentono la tecnica, magari quelli più di stazione tecnica, gli ingegneri periti, allora devi premere il tasto tecnico, devi far vedere che sai le cose, magari le sei meglio, alcuni, il tasto economico, alcuni, anche il complimento, la pacca sulla spalla, il riconoscimento. E alla fine, volendo, sono tutte accomunate dal benessere, uno si sente bene, si sente nella sua, nella propria comfort zone, parlando di tecnica, parlando anche di tecniche menageriali, che se avete sono tecniche signed, però comunque sono delle tecniche di controllo di governo, di misura dei sistemi. Altri, più di pancia, più umani, guardano queste cose. Alla fine penso di aver trovato la risposta. Il modo per arrivarci comunque lo ritengo ancora abbastanza un'arte, però puntare al benessere e dimostrare alle persone che il progetto di innovazione e l'evolversi della strategia aziendale, la sua applicazione, porta comunque per tutti a un benessere. Dico Mirko. Grazie, grazie Andrea per questa introduzione. Allora io intanto vi ringrazio per l'invito, sono molto felice di essere qui con voi e di parlare di benessere delle persone in un contesto organizzativo, perché è quello di cui noi ci occupiamo. Noi abbiamo una società che proprio come vedete si occupa, si chiama Life Skills Business, e poi il nome già dà un'indicazione di qual è la direzione e comunque il nostro orientamento. Quello che noi cerchiamo di fare nelle aziende è proprio quello di promuovere il benessere. Promuoverlo attraverso le Life Skills. Fra l'altro, ricordo bene, prima Riccardo ha parlato anche di intelligenza emotiva. Ecco, le Life Skills e l'intelligenza emotiva sono due metodologie di lavoro che noi portiamo. Delle aziende, perché noi in azienda facciamo diverse cose, facciamo sia training che coaching che consulenza, quindi lavoriamo comunque sempre nell'ambito del benessere organizzativo. Cerco di andare un po' veloce perché se ho capito bene siamo un pelino in ritardo sulla tabella di marcia, però volevo un attimo proprio entrare sul tema di che cosa intendiamo noi per benessere all'interno delle organizzazioni. Perché abbiamo parlato di etica, abbiamo parlato di innovazione, ecco l'innovazione e l'etica sono due aspetti che comunque riguardano qualcuno che innove, qualcuno che ha dei comportamenti che queste innovazioni poi le deve portare avanti e quindi parlo di etica, cioè comportamenti e modalità attraverso le quali io riesco a fare determinate cose e a realizzarle, tenendo conto di alcuni valori, tenendo conto di alcune regole di comportamento condivise. Per noi il benessere organizzativo è proprio quella capacità dell'organizzazione, quindi dell'organizzazione intesa come tutte le persone, soprattutto chi guida poi l'organizzazione, di creare e mantenere un ambiente che è sicuramente un ambiente fisico, ma come vedete qui c'è anche un tema di emozioni, quindi il clima emotivo, anche il clima cognitivo, le relazioni interpersonali, cioè capire l'importanza anche di come le persone si relazionano all'interno dei contesti, perché questo deve mettere in condizione la persona di fare che cosa? Di sentirsi coinvolta, quindi di essere senso di appartenenza, di essere riconosciuta, valorizzata nella sua pienezza, autenticità e integrità. E qui c'è un aspetto fondamentale che è quello su cui mi voglio focalizzare oggi, cioè la persona è comunque al centro in questo concetto, cioè se tu vuoi raggiungere dei risultati, li puoi raggiungere in tanti modi. Uno di questi è partendo dal fatto che anche in un mondo altamente tecnologizzato, anche in un mondo 4.0, in cui la tecnologia, in cui addirittura l'intelligenza artificiale sta parlando, come dire, come stakeholder principale, comunque alla fine della fiera sono sempre le persone che mandano avanti le cose, sono sempre le persone che hanno un impatto su ciò che poi succede all'interno delle organizzazioni. E allora mettere le persone al centro che cosa significa? Perché a volte io nelle aziende, quando faccio attività di consulenza piuttosto che di training, mi dicono, beh, guarda, noi sullo star bene, sul benessere in azienda, sai, abbiamo messo il ping pong, abbiamo messo il calcio balilla, quindi insomma le persone, c'è chi fa un po' di yoga, e pensano che con queste 3-4 attività hanno risolto il problema di che cosa significa star bene all'interno dell'azienda. È un po' come il greenwashing dal mio punto di vista, questa roba qua, no? Cioè dai una spazzolata per far vedere che ti occupi delle persone. Il tema però è un po' più importante, cioè ci sono degli aspetti fondamentali. È vero che in un'azienda, e qui stiamo parlando di un contesto in cui ho sentito c'è Confindustria, quindi voglio dire che stiamo parlando di aziende che hanno come obiettivo il risultato, il profitto, però c'è modo e modo per raggiungere i profitti. E siccome abbiamo parlato prima, sentivo, di sostenibilità, ecco, l'approccio che si prende cura della persona che la mette al centro è un approccio in cui il benessere della persona. Per benessere vuol dire lo stare bene con se stesso e col contesto. Questo ha un impatto sulla sua motivazione, cioè sul perché io mi muovo e agisco e faccio quello che devo fare. Che io sia un operaio, che sia l'amministratore delegato dell'azienda, è completamente, come dire, ognuno ha le sue leve motivazionali. E questi due aspetti, benessere e motivazione, poi sono quelli che spingono la persona al risultato. Io qui mi sono permesso descrivere risultato sostenibile, non sapendo cosa avreste detto voi prima di me. Però questo tema della sostenibilità credo che sia un tema che accomuna un po' il ragionamento di tutti noi oggi, perché quando intendiamo sostenibilità, dal punto di vista del benessere della persona, intendiamo una sostenibilità che porta le persone a migliorarsi nel tempo, avere quell'approccio, come dire, in cui quando ottengo il risultato non perché lo devo, ma perché lo scelgo, ma perché lo voglio, ma perché sento che attraverso quella cosa che faccio, quel risultato che ottengo, oltre a raggiungere l'obiettivo dell'azienda, riesco anche ad esprimere me stesso, ad esprimere i miei valori all'interno dell'organizzazione. E questo è ovvio che crea un circolo virtuoso. Ovviamente, ma non tanto ovviamente, per fare questo, servono dei leader, che non sono più i leader di una volta, sembra quasi una battuta, non ci sono più le cose di una volta, si dice, ecco, anche i leader oggi, al leader ha richiesto un cambiamento importante. Il Covid ci ha dato una grande mano in questo, perché da un giorno all'altro improvvisamente abbiamo capito che non siamo più immortali, che siamo tutte persone con una nostra fragilità, una nostra vulnerabilità e ad un certo punto non avevamo più la possibilità di avere le persone vicine, ognuno lavorava da casa. Ancora oggi molte di queste modalità sono rimaste e quindi c'era la necessità di una nuova forma di leadership. Io qui ho scritto dal leader che comanda e controlla al leader che si prende cura delle persone. Ecco, questo secondo me è l'aspetto di svolta, che poi aiuta anche a gestire bene quello che prima Riccardo, se ricordo bene, non vorrei sbagliare il nome, chiedo scusa nel caso, ha definito il buca bianco. Ecco, per un buca bianco ci vuole anche un leader bianco, se vogliamo usare la stessa metafora. E le parole del leader oggi sono queste, come vedete c'è il noi, c'è la cura, c'è la parola emozioni, valori, passione, fiducia. Quanta fiducia ci vuole a gestire un team a distanza, dove non vedo più cosa fanno, non so più, non ho più la possibilità di controllarli. Ecco, allora lì entra in gioco la fiducia, entra in gioco la gentilezza. La gentilezza non è essere carini, la gentilezza è un atteggiamento mentale, è proprio un comportamento, è il fatto di fare qualcosa senza aspettarsi nulla in cambio, ma solo perché fare quel qualcosa fa prima di tutto stare bene a me. E poi l'empatia, la capacità di mettersi nei panni dagli altri, l'ascolto, che è una delle fasi della comunicazione efficace. Ecco, tutte queste cose qui nel leader, noi come dire, aiutiamo i leader, aiutiamo le organizzazioni attraverso l'allenamento di quelle che molti chiamano soft skills, ma in realtà si chiamano, cioè quelle che usiamo noi, si chiamano life skills. Perché si chiamano life skills? Perché sono competenze che nel 94 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso che esistevano dieci competenze chiave alla base di comportamenti positivi e di adattamento necessari perché le persone siano in grado di far fronte alle richieste e alle sfide della vita, possano sviluppare resilienza, siano attori principali delle scelte personali e professionali e siano garanti del benessere personale e organizzativo. Quindi queste dieci competenze le hanno proprio chiamate le competenze del benessere. E quello che è importante fare all'interno dei contesti organizzativi è cominciare ad allenare queste competenze che nel nostro modello sono divise in tre aree. C'è un'area che è legata a quelle che sono chiamate le competenze emotive, per esempio la consapevolezza di sé, prima sentivo parlare proprio di essere un leader o un manager consapevole di che cosa? Beh intanto del proprio sistema di pensiero, quindi come guardo le cose, come le leggo, ma poi anche consapevole di quali sono le emozioni che mi muovono e di quali sono anche i comportamenti che poi metto in atto, perché agire un comportamento ha degli effetti su di me e sugli altri. Ho un comportamento etico, ho un comportamento reattivo, ho un comportamento magari che prima di agire riflette su quello che può succedere. C'è il tema della gestione delle emozioni, le nostre emozioni possono essere un grandissimo alleato, un grandissimo nemico, se le conosciamo le possiamo gestire, se non le conosciamo a volte ci gestiscono loro e le nostre reazioni emotive non sempre ci portano nella direzione che vorremmo. La gestione dello stress, prima si parlava del 2010 stress, lavoro correlato perché si è capito che lo stress e quindi la gestione della nostra capacità di far affronte agli eventi stressogeni crea salute, ha un impatto diretto sul nostro stato di salute fisica e mentale, quindi anche questo è un aspetto importante da guardare, quindi allenare anche queste competenze. Poi ci sono le competenze relazionali che sono la comunicazione efficace, quindi la capacità di farmi capire, ma c'è dentro c'è anche l'ascolto, quindi la capacità di comprendere le persone. Uno degli aspetti attraverso i quali io posso creare benessere è cominciando ad ascoltare le persone che coordino, che guido, che facilito, perché magari capisco i loro bisogni, capisco le loro aspirazioni. Riesco a gestire poi delle relazioni efficaci, che a volte vuole anche dire non solo stare bene con gli altri, ma vuol dire anche a volte rompere relazioni che non sono più efficaci e che addirittura sono tossiche, quindi anche allontanarci dalle relazioni tossiche. E l'empatia, l'empatia è quella capacità che noi abbiamo innata attraverso i nostri neuroni, una parte dei nostri neuroni nel cervello, abbiamo quelli che si chiamano i neuroni specchio, che ci permettono di entrare in contatto in una rete wifi con lo stato emotivo degli altri. Di lì poi è ovvio che non basta fare quello, ma bisogna poi anche sapere gestire l'empatia. È comunque la più grande competenza dopo di vista della connessione con gli altri. E poi c'è tutta la parte cognitiva. Avete parlato di pensiero sferico, noi abbiamo pensato al pensiero sistemico, che è un pensiero che è fatto appunto di pensiero creativo, pensiero critico, capacità di risolvere problemi e capacità di prendere decisioni. Queste sono le dieci competenze, quelle che vengono chiamate life skills, quindi competenze per la vita. E la buona notizia è che sono allenabili, quindi non è che noi nasciamo col DNA di queste competenze, sono allenabili e quando le persone le allenano, a qualsiasi livello, possiamo partire da bambini, ma se non ci hanno formato da bambini o non ci hanno aiutato da bambini, possiamo farlo da adulti, perché il nostro cervello è plastico e quindi è in grado in qualsiasi momento della nostra vita di darci la possibilità di cambiare, perché il cambiamento è un processo che noi viviamo quotidianamente, sono allenabili e quindi ci permettono di essere più, di portare quel benessere all'interno delle organizzazioni attraverso che cosa? L'allenamento delle life skills dell'individuo o del gruppo, del team. E ultimamente si è riusciti anche a misurare finalmente queste competenze attraverso un assessment che permette proprio di andare a vedere quali competenze, quale skill uso di più e in quale contesto l'utilizzo di queste competenze mi può essere o un aiuto, oppure è un'area da migliorare proprio perché voglio raggiungere un certo tipo di benessere, un certo tipo di clima. Ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però mi fermo qua anche perché i tempi sono abbastanza stretti e ho cercato appunto di prendere il lato della persona e quanto la persona è importante, quanto la persona che guida altre persone, che ha ruolo di responsabilità in azienda sia colui, come ve lo chiamano, il promotore del benessere all'interno delle organizzazioni e spero che in questo concetto sia, come dire, un concetto che verrà sempre più portato avanti perché non c'è una via di uscita dal mio punto di vista. Quindi vi ringrazio se c'è qualche domanda o qualcosa, io rimango ancora qui con voi, per un po'. Perfetto, grazie Mirko. Se ci sono domande potete farle in due modi, magari prendendo la parola col microfono oppure scrivendole direttamente nella chat, così le vediamo tutti, siamo almeno in due che le monitorano, oppure possiamo farle alla fine. due o tre secondi per fare difficile, è sempre rompere il ghiaccio, ma non so se arriveranno domande adesso. Prima di introdurre il dottor Silini e il dottor Sarnico che hanno già vissuto almeno la prima esperienza di master, mi è piaciuto, vorrei collegarmi e raccordare questi due interventi con la parola allenamento. Bello sapere che è una cosa che si può allenare, per cui, ma uno nasce ingegnere, ingegnere si diventa, si può diventare fautore del benessere, per cui ce lo confermo un esperto. Per cui magari chiederei, adesso non so se avete Luca e Davide preparato una presentazione, eventualmente potete condividerla, oppure se non c'è va benissimo lo stesso. Voi avete già fatto un po' di allenamento, il programma di Max prevede oltre che alle ore vere e proprie di lezione, nel quale entrerò nel merito fra poco, anche il progetto. Per cui vorrei chiedervi che avete svolto direttamente con successo. Vorrei iniziare col chiedervi come è stata l'esperienza vostra nel Max e come è nata la cosa, che aspettative avevate all'inizio e poi come si sono evolute e magari se ne sono create le altre. Alternatevi voi come credete. Va bene. Allora, io sono Silini Luca, sono responsabile acquisti della Metapress Donati e ho partecipato insieme a Davide, che è mio collega dell'ufficio tecnico, all'ultima edizione di Max. La partecipazione è nata per un desiderio di innovazione e di approfondimento di alcune tematiche che magari erano per noi una conoscenza un po' superficiale e anche altri argomenti che invece erano totalmente impreparati. Le aspettative erano aspettative di conoscenza, ovviamente, e di apprendimento di tecniche di management. Posso dire che complessivamente di avere soddisfatto quelle che erano le mie aspettative. Ovviamente il titolo del Max era, diciamo, eloquente del contenuto che poteva avere questo Master, ma personalmente mi piacevolmente sorpreso, e soprattutto alcuni aspetti che non erano prettamente tecnici, ma magari legati all'etica, alla, diciamo, alla sostenibilità e non solo tecnici. Mi hanno permesso di aprire gli occhi su alcuni aspetti e alcune tematiche all'interno dell'azienda che magari noi c'eravamo focalizzati su aspetti più tecnici, mentre la soluzione andava oltre l'aspetto tecnico. E col Max ho potuto, diciamo, approfondire questi aspetti con le lezioni del professore Inumaro, per esempio, sul knowledge management, sull'etica. Mi hanno permesso di capire e affrontare certi problemi da punti di vista che prima, diciamo, ignoravo totalmente. E quindi mi ha permesso di affrontare alcune tematiche quotidiane in modo diverso, e questo ha permesso anche di sviluppare, come accennavi prima o alla fine del percorso, un project work che poi ha trovato applicazione diretta effettiva all'interno dell'azienda e ha permesso di, è tuttora in atto questo progetto, e ha permesso di centrare alcuni degli obiettivi che sono, erano, diciamo, erano stati, cioè erano gli obiettivi poi di formazione del Max, che erano la Profitable, Sustainability, Digital, Competitive, Innovative, Customer Oriente, cioè questo progetto, che era poi l'utilizzo di End of Waste all'interno del processo di produzione, ha permesso di centrare un po' tutti questi obiettivi. Devo dire che se prima, quindi, era il focus era solamente su il fatto di essere profittevole come progetto, alla lunga il fatto di avere invece le altre caratteristiche ha permesso, diciamo, di avere un vantaggio competitivo che va ben oltre quello che è l'aspetto del profitto del, del, diciamo, del progetto. E, obiettivamente, cioè, personalmente sono soddisfatto di quanto ho appreso al max e anche per una mia personale, diciamo, sfede di conoscenza continua che non mi sento mai arrivato, non mi sento mai preparato, quindi a sufficienza. Grazie, Luca. Mi presento, sono Dario De Sarnico, sono responsabile dell'area tecnica della metà presto l'arti e della divisione STA. Sono d'accordo con quello che ha detto Luca, sicuramente all'inizio del corso non avevamo bene idea di quello che fosse l'obiettivo finale, però nel corso del tempo che abbiamo impiegato in questa esperienza abbiamo maturato una serie di attività, una serie di conoscenze che ci hanno permesso poi di mettere in pratica durante la nostra vita lavorativa nella gestione delle persone piuttosto che nell'affrontare alcune decisioni che sono quotidiane per un manager, soprattutto nel settore automotive come il nostro, e ci hanno permesso appunto di mettere in pratica quegli strumenti che ci sono stati dati durante il corso e poter affrontare quelle che sono le crisi, come la crisi energetica che stiamo vedendo in quest'anno, poterlo affrontare in modo diverso e quindi avere quegli strumenti che ci permettono di creare dei nuovi progetti relativi alla riduzione dell'emissione del CO2 piuttosto che degli investimenti come si diceva prima relativi all'acquisto di nuove macchine piuttosto che nuovi progetti e diciamoci ha un pochettino aperto la mente a quello che sono in modo diverso di approcciare alle problematiche, quindi abbiamo comunque fatto anch'io, ho fatto un progetto relativo alla chiusura del corso, il mio progetto era relativo alla riduzione dello smaltimento di luogo raffigerato nel reparto di innovazione meccanica e questo primo progetto ha aperto poi con un esito positivo quindi una riduzione di sprechi, una riduzione di costi di smaltimento ha aperto poi una serie di altri progetti che stiamo facendo partire relativamente a ricerca e sviluppo e relativamente a endowist o altre cose quindi diciamo che è stato l'inizio di un percorso più lungo all'interno dell'azienda. Perfetto, grazie Davide, avrei un'ultima domanda per entrambi voi, siamo collegata anche al tema di questo incontro e rispetto al prima, al durante, il dopo diciamo corso anche se i progetti come diceva Luca sono ancora in corso, sono progetti importanti e hanno necessità di un certo tempo per essere, per dirsi conclusi, come visto che poi comunque anticipo anche il mio intervento dopo e l'allievo Max, quindi quando quando siamo diplomato Max e possiamo definire così, all'inizio arriva in azienda e è lui che porta i contenuti ed è lui che fa da formatore senza che lo sia in un ruolo definito in aula frontale e volevo chiedervi quindi un evangelizzatore se volete un portatore di questo approccio sistemico che è quello della bussola. I vostri colleghi come hanno, quando Mari, in occasione della proposta del progetto, che feedback vi hanno dato e anche la direzione aziendale, Mari prima e dopo, prima del corso e dopo il corso? Diciamo ciò, ciò che è fondamentale, che abbiamo acquisito e prima si parlava di del mondo VUCA, quindi che sia il VUCA al mondo, diciamo scontato visto cosa è successo negli ultimi due anni. Tutto sta poi come si affronta diciamo questo mondo VUCA, quindi l'acquisizione di una serie di diciamo tecniche e nozioni per affrontare il mondo VUCA senza avere la palla di vetro. Quindi cosa succederà nei prossimi due anni? Non lo sappiamo. L'incertezza e diciamo e fa parte della quotidianità, ma il saper affrontare queste incertezze e questo mondo VUCA fa la differenza nel mercato e in questo mondo che è cambiato negli ultimi anni. All'interno dell'azienda noi abbiamo portato alcuni diciamo tecniche, non tecniche, alcuni strumenti che avevamo acquisito durante diciamo il Max, ma abbiamo portato soprattutto una visione diversa dell'azienda e diversa anche modalità di gestione delle persone, di approccio alla formazione e di approccio ai problemi. Nei nostri discorsi, se prima diciamo la sostenibilità e l'etica non c'era quasi mai, oggi con diciamo queste diciamo conoscenze comunque, questa apertura mentale che ci ha dato durante l'anno il Max ci permette di comunque portare questa visione all'interno dell'azienda e quindi accompagna quotidianamente quelle che sono le nostre riunioni o le nostre problem solving eccetera eccetera. Quindi non è solo un'acquisizione di alcuni strumenti tecnici o alcune conoscenze tecniche, ma è proprio una visione che abbiamo appreso diversa da ciò che magari avevamo avevamo prima. Ottimo. Davide, se vuoi aggiungere qualcosa ancora a chiusura a tu? Up to you, come si dice in inglese? O il Parlamento ne ha facoltà, dico il Presidente della Canada con rispetto a parlare? Sicuramente quello che ho visto nella mia esperienza lavorativa il mondo sta cambiando, quindi effettivamente anche da parte dei titolari d'azienda si dà più spazio a questo nuovo modo di vedere i manager. Quindi anche solo il fatto di averci permesso di fare questo corso perché comunque è molto impegnativo, è un impegno anche da parte dell'azienda perché comunque perde per diverse ore i suoi manager. Quindi anche questo è un esempio per cui secondo me i titolari danno fiducia e danno la possibilità di crescere ai manager in questa direzione. Quindi secondo me è una direzione. Bene, perfetto. Quindi diciamo esperienza positiva, ci fa piacere, vi ringraziamo. Allora visto anche l'orario siamo fuori magari di un quarto d'ora. io mi auto incarico di farvi vedere più nel dettaglio in cosa consiste allora il Max. Dovrei riuscire a proiettarlo, vedete sì? Io lo faccio in presentazione. Ditemi se vedete. Qualcuno alzi la mano, qualcuno faccia un cenno. Greta? Ok, ecco, forse non dovrei fare il cenno perché nell'andare in presentazione non vedo più nessuno, non vedo i ceni se non cambio schermo, quindi mi avete fatto pollice in alto. Per cui adesso in alcuni minuti e rimanendo poi a disposizione delle vostre domande vorrei illustrarvi in pratica in cosa consiste il corso con alcune slide. Per cui questo, Mari, ce lo siamo già anche detti al percorso. Poi ovviamente vi lasciamo tutto, ve lo inviamo insieme a un questionario di raccolta feedback di questo evento che vi ringraziamo se poi compilate. Siamo partiti con questo progetto nel 2016 più un po' imperniati sulle tecniche, pur menageriali ma tecniche, quindi molto su Lean, su Lean 6 Sigma, un pochino già sulla stendibilità, formalizzando lo strumento della sfera che è stato citato prima che poi è diventato una bussola, quindi diventato di una dimensione più quantitativa, o quali quantitativa, aumentando gradatamente la presenza della parte digital, quindi Industry 4.0 con l'edizione dell'anno scorso, introducendo anche l'etica aziendale. Comunque, anche se è vero che la persona che si forma con il Max si forma molto, in gran parte, sulla tecnica, ma è giusto anche formare e dare degli spunti attraverso laboratori che si svolgono durante la lezione in cui ciascuno può portare anche la propria esperienza di etica, per cui la ricerca dell'efficienza ad ogni costo, oppure all'efficienza dell'ottimo globale, nei sensi della sfera quindi del profitto, dell'orientamento al cliente, dell'orientamento ai dipendenti a tutti i costi, o meglio troppo enfatizzato, doveva essere armonizzato con un approccio etico, in modo tale che non venisse, che non venga forzato e non venga nel futuro forzato dalle persone, ma che abbiano comunque quella giusta impostazione di etica aziendale, in modo tale da poterlo portare avanti, appunto scusate la tautologia con la corretta etica. Da quest'anno ancora di più abbiamo dedicato ore sull'innovazione sostenibile, introducendo anche dei temi specifici, ad esempio dell'LCA o del carbon footprint. Quindi io salterei questa parte di sfera, se siete interessati possiamo parlarne, ovviamente lo dico adesso, noi e io soprattutto siamo a disposizione vostra per un colloquio di orientamento, una call di orientamento in cui approfondire il programma, oggi non potrò leggervelo, sono davvero molte righe, riassumerò gli argomenti e l'approccio, ma se siete interessati a vedere se c'è un particolare argomento che vi interessa, noi siamo a disposizione, ci potete mandare una mail a formazione che io ho la CSMT oppure chiamare qua in CSMT e ottenere risposta. Quindi come profilo di output, chi frequenta questo master è in buona sostanza un promotore dell'innovazione. Prima lo dicevo io stesso, nasci ingegniero, nasci di un certo profilo e ci diventi, in realtà sono valide entrambe le cose, quindi non è che vi si insegna a generare nuove idee, a essere creativi di per sé, dopo questo è più forse lì da me, vi si insegna un metodo per generarle in modo strutturato e per smuovere i collaboratori, nel senso che si diceva prima in modo metodico, con un certo metodo, in modo tale che se avete voglia, e questa è una cosa che riesco a vedere anch'io quando lavoro in azienda, di diventare più di prima, se volete, il motore dell'innovazione, questo corso fa per voi. Vi facciamo vedere anche quello che è la nostra visione che chiamiamo sistemistica, io da comunque estrazione tecnica, vi propongo questa visione, l'ottimo globale, quindi l'ottimo dell'azienda, anche io ho imparato quando ho fatto ricerca operativa al terzo anno di ingegneria, proprio matematicamente si può anche disegnare, ma è una cosa che si capisce anche a parole, non è detto che coincida con la somma o con l'unione degli ottimi locali, alcune volte non è così, per cui qualche funzione aziendale, qualche persona si porta magari in un progetto di digitalizzazione, si porta a carico un lavoro che non faceva prima, scaricando altre dieci persone, magari non è contento, ma l'azienda ne ricava beneficio, per cui io spendo mezz'ora di più al giorno, un quarto di più al giorno, ma l'azienda risparmia in mani due persone in totale, durante le lezioni e le registrazioni che facciamo, questo aspetto lo vediamo molto bene e nelle parti di interazione si può capire come questa cosa possa essere proposta all'interno delle vostre aziende, comunque si orienta la persona a vedere sempre l'ottimo globale, poi starà a lui tracciare il percorso con cui si raggiunge appunto questo ottimo per l'azienda e lasciatemi dire per il sistema, non solo per l'azienda, ma anche se è vera la bussola, anche per il sistema clienti, fornitori, dipendenti e territorio. Sistemistica vuol dire in questo senso. E poi giustamente l'ho messa per ultimo, ma assorbe la maggioranza delle ore, la padronanza delle tecniche, adesso entro nel merito, per fare queste cose, quindi non si ha la pretesa, altrimenti il master, diciamo 500-600 ore non sarebbero state sufficienti, quindi non si ha la pretesa di dare la padronanza piena, perfetta di tutte le tecniche, ma quanto basta almeno per sapere se un certo metodo può andare bene per ottenere un certo risultato, saperlo applicare con la giusta padronanza, al più per delegarlo domani a qualcuno o per insegnarlo a qualcuno o per approfondire domani quello che serve. Alcuni metodi sono messi più a fuoco, sono più soggetti a esercitazioni, e poi nel fare questo, sempre c'è comunque la lesson learned o la fine dell'esercitazione, c'è un momento di sintesi, lasciando stare magari la grafica, in cui vi si chiede di presentare il risultato con una slide, facendo finta di essere in azienda, quindi l'aula, la classe e l'azienda, per cui si ha questo momento di condivisione che arriva anche a mezz'ora quanto serve, per far finta, per simulare di farlo domani in azienda. Quindi il profilo di output è proprio questo qui. I destinatari, direi, non sono tutti, però diciamo abbastanza, tutti abbastanza, copre abbastanza le funzioni aziendali, quindi coloro che o sono manager o lo vogliono diventare, le funzioni aziendali che di solito si scrivono sono espressione di produzione, di operation, di qualità, di rendi, di vendite, di acquisti, di controllo di gestione, qualsiasi funzione che comunque nel poco o nel tanto ha un ruolo manageriale. Ovviamente chi poi lo frequenta si crea anche le possibilità di un percorso professionalizzato, di una crescita aziendale anche come ruolo e responsabilità. alcuni sono stati anche dei professionisti, per cui abbiamo avuto anche delle ditte individuali, dei partite IVA che pur non essendo collocati a tempo pieno in azienda, ma fanno questo tipo di lavoro, portano l'innovazione in azienda. Come requisito non chiediamo altro che avere un diploma di scuola superiore. molto spesso ci sono persone laureate, ma non vuole assolutamente dire, non ci sono, non bisogna essere laureati per capire bene gli argomenti. Magari un pochino di statistica, un pochino, ma giusto qualcosa. Più che altro tre anni di esperienza in azienda. Magari il super laureato, dottore di ricerca che ha tutto ancora la conoscenza tecnica e scientifica bella pronta, che in un anno in azienda fa fatica a tradurre quello che vediamo al corso in azienda. Per cui ci interessa di più che la persona abbia almeno solo tre anni, comunque qualche anno di esperienza in azienda. E come storico aggiungo che anche l'età non è un problema. Abbiamo avuto da 21 anni a 52 anni in queste tre edizioni che abbiamo fatto. E abbiamo avuto dall'amministratore delegato al caporepardo, pensando per il manager, per il funzionario, per il responsabile. Abbiamo avuto il buyer, il responsabile, il direttore operation. Abbiamo avuto un po' di persone. Tutte e ciascuna ha dato tra l'altro il contributo, il proprio contributo, il proprio punto di vista all'aula, che molti dei contenuti, meglio alcuni contenuti che si sviluppano durante il max, si sviluppano proprio in aula. Quindi al di là delle slide e dei riferimenti bibliografici che comunque vengono dati erogati e vengono messi a disposizione su una piattaforma e-learning. Alcuni contenuti ed esperienze si creano durante l'aula, a voi perché sono stimolati dal docente. E questa è la parte di etica, la parte di soft skills, è più predisposta a fare questo che non magari lo strumento link. Però ha anche la parte di tecniche, quindi si creano delle condizioni che diversificano, se volete, il corso da un normale corso frontale. Perché appunto si mettono a disposizione dell'aula le proprie esperienze, si vede un collega di un'altra azienda, anche non concorrente, si dice anche al caffè. Anche questi momenti al pranzo insieme, ma io ho avuto questo tipo di problema, sto affrontando questo progetto, tu come l'hai fatto? E allora si condivide l'esperienza e anche questo ha contenuto molto presto. Nel giro di un mese si crea sempre il Whatsapp, il gruppo Whatsapp degli allievi, che poi iniziano anche a uscire a cena e fanno gruppo e fanno appunto sistema tra di loro e rimangono in collegamento anche dopo. Anche questo mi fa molto piacere portarlo avanti, che è perfettamente in armonia con la mission del CSMT. L'ho già detto. Quindi i temi di programma si divide in fondamentalmente tre aree, quindi la parte che abbiamo chiamato di Lean Management, quindi gli strumenti Lean, quindi quelli che fanno efficienza nel mondo delle operation, in produzione o nei servizi, nelle attività operative direttamente collegate al valore aggiunto, oppure quelle operative d'ufficio BPR, che sta per business process re-engineer, tutte quelle soft skills, qui sarebbe più giusto parlare di Lean soft skills, che portano, diciamo così, la parte di proposizione ai colleghi, sempre seguendo la mentalità Lean. Qui ci sono quegli esempi anche in analogia con la parte della filosofia Zen, che poi è stata esportata, una piccola, proprio parentesi, brevissima, che è stata esportata in Giappone, dato seguito come cultura dei samurai, che poi sono diventati, erano i primi manager Toyota, avevano proprio la scuola di samurai. E' anche stato per me, quando ho imparato queste cose, affascinante capire cosa c'è dietro un metodo. Il just in time, e qua mi fermo perché altrimenti mi dilungo, non è altro che la traduzione che il qui e ora dello Zen. Uno fa fatti come just in time la parte delle scorte, però fare, pensare al momento, che non vuol dire non pensare al passato e al futuro, però farsi di sincronizzare i materiali derivano proprio da quel tipo di mentalità. E in questo modo lo vediamo anche queste cose, che secondo me aiutano bene a capire e radicare le tecniche in una tale che si capisce da dove deriva un metodo e perché è nato e qual era il contesto in cui è nato, sicuramente riesci a tradurlo nella tua Zen. In realtà il copia e incolla, signori, non funziona. Questo va sempre riadattato, quantomeno nel modo in cui lo si propone in azienda. Il copia e incolla, adesso non è 40 anni che faccio, che sono in giro per lavoro, sono più verso la metà di questi anni, ma l'ho visto subito, mai fatto un copia e incolla che funzionava. Poi c'è la parte di etica, quindi la parte che si concentra più sulla parte di individuo e valori individuali, aziendali, la cultura della conoscenza, la parte di diversi e di me, quindi la parte diciamo più umana della quale anch'io sono meno preparato per l'estrazione tecnica, che poi confluiscono, quindi vedete la somma, nell'innovazione sostenibile che merita un'altra parte del programma, adesso vediamo le percentuali, dove si parla anche di economia circolare, nel tema tecnico della carbon footprint, delle LCA, quindi di capire, diciamo, life cycle assessment, quindi di valutare sempre in ottica sistemica, come dicevo prima, i benefici e i costi in un'ottica più ampia del prodotto, più ampia del processo che sto migliorando e più ampia dell'azienda in modo tale che non si sa mai e bisogna prevedere come poi questo, se nel caso di un prodotto arriva a fine ciclo di vita come viene ricircolarizzato, anche a livello di materiali, anche qua senza pretesa di portare la persona all'autonomia, ma sicuramente all'autonomia di scelta, sì, perché poi se iniziamo a parlare di alluminio, l'alluminio non è la plastica, non è la cenere, non è un'altra cosa, non è la gomma, per cui però l'approccio quello sì, e tutta la parte di tecnologie 4.0, partire dai sistemi informativi, le tecniche di intelligenza artificiale, il digital twin, diciamo quelle del piano calenda, dette in brain. Ciascuna di queste è corredata di esempi, di casi che vengono, di casi aziendali reali, che vengono discussi in aula, dove ripeto, ciascuno di voi potrà portare la propria esperienza, quello che si può dire, ovviamente c'è il segreto e la riservatezza viene mantenuta, però quello che si può dire, qui lo condividete, è meglio per tutti. Il corpo docenti è tratto da questi enti, per cui il cappello della Scuola di Alta Formazione Università di Brescia, i docenti provengono da CSMT, da ISFOR, dall'Università Brescia di Brescia stessa, dalla Bosch, in realtà dalla Bosch Tech, quindi l'ente di formazione di Bosch, per quale è prevista anche una visita a una fabbrica 4.0, una delle poche secondo noi, secondo la nostra esperienza, che davvero ha fatto il 4.0, che ha l'intelligenza artificiale fatta in fabbrica, che davvero non fa scarto, perché corregge prima, se serve o si ferma al più prima di fare scarto. La QM, che è anche il nostro partner in altre iniziative di formazione in formazione, Etic Intent, lo dice già la parola, che si occupa più della parte etica, che dicevo prima il modulo 2, poi da una serie di professionisti che sono in contatto con noi, e quindi non hanno, diciamo così, un logo, però sono qualificati per esperienza e per competenza in temi specifici. Sono alcuni per cui abbiamo poche decine, sono 20-25 docenti, alcuni li vedrete di più, alcuni li vedrete di meno, ciascuno che porta il meglio di sé, il meglio della competenza della parte formativa del nostro territorio, in modo tale che sia più efficace. Se non so perché non va avanti, ecco, perfetto. Abbiamo 332 ore, divise come vedete nei tre moduli, un 6% di esperienze interne, ma un 40% globale, non aveva senso fare una torta, per cui ciascuna di queste parti, oltre alla parte più di esperienza esterna, perché lo dice già la parola, di formazione pratica e esperienziale. Cosa vuol dire? Che dove è possibile, adesso si parla tanto anche di gamification, comunque di parte dove, Marici si divide anche in ruoli aziendali, si fa finta di essere in un'azienda, in un reparto, in una linea, o in un contesto, quindi ciascuno di voi prende ruolo, è anche un po' il teatro, nel teatro, diciamo, l'entrare nella parte che rende vera la cosa, in modo tale che, se un docente è pur preparato, te la racconta, la capisci, ti leggi i libri, ma di questo sono estremamente convinto. Anch'io se la vivi, anche se fosse per mezza giornata, una giornata, e nel master alcune giornate delle 300 ore saranno così, si radica nella mente proprio il metodo di apprendimento. Io l'ho vissuta, io quando la prima volta che ho fatto il link game sul just in time, ho progettato il calcolino, usciva un minuto al pezzo, e l'ho vissuto, perché poi quando era 62 secondi, 65, 57, lo vedevi e lo respiravi il just in time, e anche a me anni fa è rimasto impresso. Dove questo non è possibile, si fanno simulazioni di aula, per cui, diciamo, la parte interattiva, dove magari non si usano degli oggetti con le mani, come potrebbe essere la parte di materiale dell'ingame, ma si mettono a disposizione, diciamo, altri strumenti, anche digitali, ci sono dei simulatori, anche di filiera, di piccoli contesti produttivi, che possiamo usare pure di veli laboratori, e ci sarà una giornata dove faremo la visita ai laboratori dell'Università di Brescia, che sono siti qua, su laboratori di stampa 3D, piuttosto che di robotica, o di altri altri temi legati all'Università di Brescia, o al CNR, per cui magari non si vede la stampante che va, ma si parla col ricercatore, con un esperto che lo usa, e diciamo, vale come da visita aziendale, piuttosto che si fa un laboratorio di apprendimento tra di noi, per cui si fanno anche dei casi reali, delle esercitazioni più corpose, tali da essere chiamate casi reali, se non delle pratiche esercitazioni, quando c'è anche il calcolino da fare, si fa anche questo. Oltre a questo, verso la fine, anche dopo la fine delle lezioni, noi ci mettiamo a disposizione, diciamo per una mezza giornata, dico in modo commerciale, ma per chiarezza, è compresa nella quota di iscrizione, per cui se volete la potete opzionare, e di solito si opziona, dove noi veniamo con i docenti che servono, da voi, vediamo a fronte di un progetto, verifichiamo se ci sono, se c'è la predisposizione al cambiamento, alla ricezione, e a portare avanti questo progetto, e vi aiutiamo nel fare l'outline, mi ricordo la traduzione italiana, quindi a delineare le eventuali resistenze, a fare un'analisi del ciclo, del portare avanti questo progetto. Poi se volete, si può estaurare un altro tipo di rapporto, e vi supportiamo anche dopo, ma sicuramente, visto che adesso fra poco ci arrivo, il progetto, il caso di studio, la tesi, se volete, nel max è obbligatoria, sicuramente c'è da parlarne. Ecco, adesso vediamo, prima faccio le animazioni, è previsto il 3 febbraio, l'inizio delle lezioni, fino a dicembre, quindi è il corso dell'anno prossimo, cadenza bimensile, quindi vuol dire ogni due settimane, il venerdì giornata piena, il sabato giornata piena, poi due settimane niente, quindi si lavora, si sta a casa, e così via, tranne ovviamente le periodi di pausa, piuttosto che festività che possono accadere durante il calendario. Questa è una formula che abbiamo visto essere vincente, anche perché il max è comunque un investimento, e quindi diciamo che il venerdì è un investimento dell'azienda, perché comunque paga il corso e rinuncia quel venerdì alla persona, e il sabato, salvo che l'azienda lavori anche di sabato, quella persona sia ingaggiata anche di sabato, lo investe la persona quantomeno come tempo. è anche pratico, perché forse è meglio che mancare poco tutti i giorni della settimana, uno sa che due venerdì non c'è, lo sanno tutti, per cui è anche programmato, poi qualche volta si manca lo stesso, e comunque lascia spazio a portare in parallelo la parte principale del vostro tempo, che è quella del lavoro. dopo il primo test, a crocette, che poi sarà seguito dal secondo, quindi ogni semestre c'è un test, si può iniziare a parlare di project work. Proprio in occasione del primo test ci sarò io, nella mezza giornata il test dura un'ora, 50 domande, 60 minuti, risposta chiusa, poi magari lo approfondiamo in sede di colloquio, vi spiego come si può portare avanti il progetto, secondo un format collaudato, quindi c'è anche in pratica un file di Word con i capitoli, con le spiegazioni da riempire, ovviamente non c'è il capitolo già pronto, però c'è la parte di contesto, la parte di obiettivi, di pianificazione, la parte di bussola ovviamente, ma il progetto è assolutamente l'oggetto che corona l'utilizzo della bussola, che avremmo avuto modo di vedere anche durante le esercitazioni che faremo durante tutto l'anno, e poi una cosa che di solito non finisce con le lezioni, alcuni ce la fanno e portano il progetto a conclusione in occasione dell'ultima lezione, ma questo non è affatto detto, anche 3, 4, 5 mesi massimo questa cosa può essere portata avanti, noi ci siamo con la fase di tutoraggio, che forse non ho fatto comparire, il coordinamento didattico, io per una persona, o alcuni miei colleghi in funzione anche del tema, vi seguiamo fin quando il progetto è portato avanti, fa parte integrante dell'esame di valutazione, quindi partendo poi, arrivando poi alla parte pratica, viene rilasciato un attestato di frequenza se la persona frequenta almeno l'80% o l'85%, credo sia l'80%, comunque lo trovate nel modulo, per cento delle ore. al superamento del primo e secondo test e del progetto, viene rilasciato un attestato di superamento dell'esame, l'ente che rilascia questi certificati, questi attestati è il CSMT, poi per chi vuole un ulteriore esame orale di un'ora, che parte ovviamente dal progetto, ma può vertere su qualsiasi parte del corso, non facciamo domande neanche nei test, lo dico già all'inizio, non ci interessa farvi la domandina cosa c'è scritto a pagina 3 dei lucidi, piuttosto che lo strumentino, la formuletta, anche perché durante i test potete consultare tutto il materiale che volete, però è fatto abbastanza stretto, per cui 50 domande in 60 minuti non è che uno riesce a parlare, a consultarsi tanto, ma le domande sono fatte per chi ha capito, non per chi ha imparato a memoria. Poi per chi vuole coronare anche di un'ufficialità attraverso l'esame di certificazione, che ha una quota di iscrizione a parte onerosa, secondo uno schema accreditato nei canoni di Accredia, con l'ente CQCCEF di Milano, si istituisce una commissione d'esame, che poi rilascia la certificazione, con tanto di iscrizione a un registro pubblico sul suo sito di CQCCEF, che può essere reso anonimo a discrezione dell'azienda, per cui dopo non è bello pubblicare i dipendenti che hanno fatto un percorso di formazione, in modo tale che te li vedono i concorrenti, è una cosa molto pratica, ma la dico, per cui a discrezione dell'azienda si può pubblicare il numero di certificato, la persona, voi comunque che sarete certificati, ricevete un attestato con lo stesso numero identificativo, quindi potete provare che quel numero siete voi, però comunque è una certificazione pubblica, vale per cinque anni, poi può essere rinnovata, chi vuole la fa, noi dobbiamo solo sapere se raggiungiamo il numero di break-even per coprire i costi di questo esame, allora facciamo, chi vuole lo fa, chi non vuole comunque porta a casa comunque tanto, perché tra test e progetto in azienda, poi l'innovazione applicata può accompagnare il progetto, da valore, a noi piace dire che l'azienda che fa questo tipo di investimento ria come valore di investimento le persone, la persona, persone formate, e un progetto magari già iniziato, iniziabile e impostato con voi direttamente con l'azienda. Finisco, così concludo, fatemi controllare il quarto d'orso, è già svanito, quindi numeri d'oggi, abbiamo avuto 53 partecipanti di 33 aziende, fino in queste tre edizioni, tutti hanno seguito almeno l'85% dell'ora, quindi c'è stata una frequenza, e qua vedete alcuni progetti di innovazione, si va dal cambio di gestionale, da analisi di guasto, progettazione di un nuovo model di business, c'è stato anche una startup che ha fondato l'azienda, ottimizzazioni logistiche varie, progettazioni di prodotto, layout nuovi, stabilimenti nuovi, sono tutti i progetti popabili, è la tipica espressione di progetti di innovazione che si fanno nel Max. Qualche numero, qua trovate poi tutto anche nella scheda di iscrizione, è un'iniziativa di formazione, quindi è finanziabile secondo i canoni, la fattura di CSMT può essere rendi contata, noi abbiamo statuto la parte di formazione, quindi di solito fondi impresa, fondi dirigenti o altri fondi, se avete anche chi vi segue la pratica, se no vi volete rivolgere a noi che vi possiamo consigliare, non la svolgiamo direttamente come CSMT, ma abbiamo dei partner che possono darvi una mano, e abbiamo questi costi che vanno diminuendo dal primo, secondo e dal terzo successivamente, gli iscritti che possono beneficiare all'ebooking fino a fine d'anno di un ulteriore sconto. E io qua ho proprio finito, e vi ringrazio per avermi ascoltato, e allora appunto adesso sono a disposizione per domande. Ecco, vedo il commento era tuo, Greta, se ci sono domande, vediamo quanti sono sopravvissuti anche al tempo, adesso è abbastanza tardi, ma non più di tanto. Qui se avete domande, che potete fare adesso, siamo a disposizione, se no lo ricordo qua tanto, poi venite raggiunti da una mail con un brevissimo, sono proprio cinque domande, ma una è il nome, per cui le domande vere sono tre, di gradimento e di manifestazione di interesse, oppure ci mandate una mail a formazione chiocciola.csmt e noi siamo a disposizione per soddisfare tutte le vostre curiosità. Vedo che è comparso un'altra, è un saluto. Mi sa che abbiamo concluso, vedo che ci sono i saluti, quindi vi saluto. Ringrazio tutti anche i relatori, grazie Mario, io ti vedo adesso più grande a Maxi Scherro, perché le telecamere sono state abbastanza disattivate. Ringrazio anche Mirko, Riccardo e Cinzia, e Davide e Luca, che hanno partecipato insieme a me a questo evento. Grazie mille per la partecipazione e buona serata a tutti. Arrivederci. Ciao. Grazie a tutti.